Il posto di lavoro non si tocca, non si tocca, non si tocca, non si tocca, non si tocca! Che cosa hanno in comune la campagna e l'industria? La difesa della dignità del lavoro, la difesa della salute delle proprie famiglie, l'economia che va a ripercuotersi su tutte le fasce della popolazione. I lavoratori dell'industria se non hanno salario non possono consumare e non possono acquistare i prodotti dei compagni e dei lavoratori della terra. Non si tocca, non si tocca, non si tocca! Non si tocca, non si tocca! Grazie a tutti.